Cosa c'è che non va? Chiusi in una bolla Non c'è più un legame che mi fa star bene Non c'è più un legame È una situazione drastica Zero comunicazione ma mente caustica Cosa c'è più un legame che mi fa star bene Non c'è più un legame che mi fa star bene Non c'è più un legame che mi fa star bene Non svanisce il sentimento che ci fa viaggiare Viaggiare con la mente verso oriente ed occidente Consente di discernere ciò che trascendo è immanente Non svanisce il sentimento che ci fa viaggiare Viaggiare con la mente verso oriente ed occidente Consente di discernere ciò che trascendo è immanente Chiusi in una bolla 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 Che scoprirà